Noi oggi siamo qui per festeggiare il mio innamoramento. È una persona decisamente speciale. Io sono Kevin Pirelli. Non so chi sei. Non ci sarebbe una Coca Zero perché me il vino... Comincio a capire perché mio padre ti voglia sposare. Sei incinta? Sì. La risposta a tutti i problemi era una sola. Ma un unico grande problema. Lo scrittore Martin Eden non esiste. È un frutto delle vostre menti. La risposta a tutti i problemi era una sola.